Buongiorno fanciulli, benvenuti e bentornati sulle Sex and Rose, io sono Morena, voce fuori campo e lui è LIMON! LIMON, sex toy prodotto da Minna, azienda californiana che probabilmente non ha idea di cosa significhi Minna in italiano, è un sex toy per uso esterno, un vibratore, progettato per la simulazione della vulva, quindi vitolide, labbra interna, labbra esterna, ingresso della vagina, qualsiasi altra parte del corpo stimolabile all'esterno, esterno non interna, è anche uno dei 31 sex toy che abbiamo analizzato nel nostro libro, sex toys, alla scoperta del genere di piacere, bla bla bla, e che abbiamo chiamato rivoluzionario, cos'è che rende rivoluzionario questo sex toy? Il fatto che sia spremibile, cioè per funzionare, quindi per emettere vibrazione, deve essere schiacciato, spremuto come un... LIMONE! E più viene schiacciato, più aumenta l'intensità di vibrazione, quindi permette una gestualità molto naturale, perché invece che essere lì a dover premere un tasto per variare l'intensità della vibrazione, possiamo semplicemente premere il nostro sex toy, con le mani, con il corpo, sul corpo, eccetera. Altra funzione può registrare dei ritmi di vibrazione. Lo faccio, perché si capisce meglio. Quindi accendo, schiaccio il tasto, emetto una luce, quindi acceso, e non fa niente. Se inizio a schiacciare, lui inizia a vibrare. Se attivo la modalità per memorizzare i pattern di vibrazione, lui ripeterà poi quel pattern in loop. Funziona! Cioè, di solito funziona, ma a volte sono io che non funziona. Poi possiamo bloccarlo e lui continuerà a ripetere, 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 oppure tornare da zero, che fermo, e poi schiacciamo e vibra. La tipologia di vibrazione è piuttosto dolcina, è rumbly, si definisce, quindi che borbotta e che non fa quel ronzio fastidioso. Cioè, fastidioso sul tatto, non l'orecchio sempre. L'intensità aumenta fino a un certo livello, non è altissima, va bene per corpi abbastanza sensibili, che non hanno bisogno di chissà che intensità, per essere stimolati. E può essere un oggettino carino, anche come primosexorio, magari per chi vuole qualcosa di poco invasivo, anche a livello visivo, anche perché sembra un timer della cucina, quindi si confonde facilmente in cazzo. Un timer della cucina a forma di limone.